Partiamo dalla riete. Vi attende un sabato ricco di soddisfazioni in tutti i campi, meno che in amore. Giornata promettente, in particolare sotto il profilo finanziario, avrete un notevole senso del denaro e questo potrà esservi molto utile. Toro, il fisico è sottotono, bisogna stare molto più attenti a quello che mangiate e a quello che fate. Tenete gli occhi ben aperti nell'ambiente di lavoro, evitate invece di ingigantire problemi con il partner che non esistono. Gemelli, oggi grosso salto di qualità e non potrete sottrarvi al compito che vi aspetta. Se siete indipendenti nel lavoro, potrete approfittare di un'accentuata capacità di persuasione per volgere a vostro favore più di una situazione. Cancro, converrà tenere un profilo basso, evitare ogni motivo di tensione e scontro con le persone vicine, non pretendete l'impossibile dal vostro fisico e dalla vostra mente. Leone, lamentatevi se ne avete il coraggio, potrete realizzare i progetti che vi stanno a cuore e divertirvi alla grande con gli amici. Oltre a questo viaggerete, farete esperienze nuove e conoscerete persone interessanti se siete single. Vergine, migliora la situazione astrale rispetto ai giorni scorsi, riuscirete a ribaltare completamente situazioni di natura sentimentale e finanziaria che vi erano contrarie. Bilancia, potreste sentirvi irrequieti e nervosi, contrastati da astri negativi e ad ogni sorta di dubbi. Non andate in tinte se dovete smaltire in tempi brevi un'amore di lavoro enorme. La parola d'ordine oggi sarà semplicemente organizzazione. Scorpione, nel lavoro gli astri faranno sì che si avvicini alla conclusione di affari che vi stanno particolarmente a cuore. Le vostre aspettative e i vostri desideri saranno presto esauditi. Sagittario, il barometro celeste segna un miglioramento in molti settori. Verranno esaltate la vostra socievolezza e la vostra comunicativa. La giornata sarà piena di buone notizie sul lavoro, di incontri e di amici. Capricorno, giornata un po' nervosetta. Evitate di intervenire e di prendere posizione su una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta, specialmente se sono in gioco quattrini e altre persone. Acquario, grande giornata. Saprete muovervi molto bene dimostrando abilità e acutezza, ma anche intuizione e immaginazione. In questo modo riuscirete a trovare proposte o soluzioni originali a qualsiasi questione. Pesci, vi stupirete di come vi sorrideranno le cose. Le scuoterete ovunque con sensi. Alcuni affari si svolgeranno secondo le migliori aspettative e faranno salire alle stelle la vostra immagine sociale e il vostro prestigio.